Nicola Irto del PD è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Calabria. Irto è stato eletto alla prima votazione con 23 voti sui 21 richiesti. Il nuovo presidente subentra ad Antonio Scalzo, eletto lo scorso 7 gennaio, che si è dimesso dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta denominata Rimborsopoli sull'utilizzo dei fondi dei gruppi regionali condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Al voto che ha portato all'elezione di Irto hanno partecipato tutti i 31 consiglieri eletti, 7 sono state le schede bianche e una nulla. A favore di Irto, che ha 33 anni ed è laureato in architettura, oltre ai consiglieri del centro-sinistra si sono espressi anche i tre eletti di NCD. Irto è stato consigliere comunale a Reggio Calabria ed ha ricoperto la carica di vice segretario regionale del PD. Grazie.